Ciao Herbert, benvenuti nel mio canale musicale Oggi ti imparo un pezzo dei Metallica perché ho visto che non lo sai bene Allora, quando arrivi qua, che non sai più il Piri Piri, P è Poi è Metti bene le dita perché sennò non viene Poi c'è la parte difficile Eh no Eh, non lo so più Non lo so più